La domenica calcistica delle Peligne si aprirà con l'Ovidiana che giocherà al Pallozzi contro il Canistro alle 11, il confronto della seconda giornata di andata del girone B del campionato di seconda categoria. La gara verrà anticipata in mattinata a causa della concomitanza con il Sulmona. I biancorossi hanno voglia di riscattarsi dopo la sconfitta contro il Castronovo maturata in pieno recupero. La squadra di Pietro Cardilli cercherà di prevalere rispetto ai Marsicani, reduci dalla vittoria casalinga contro il San Giuseppe di Caruscino. Arbitrerà Roberto Alfonsetti dell'Aquila. Le altre squadre del centro Abruzzo scenderanno in campo nel pomeriggio nel girone C del campionato di prima categoria e in programma il derby Pacentropopoli in una partita delicata per entrambe che si trovano ancora a zero punti. I Pacentrani saranno privi dello squalificato Antonio Cucurullo. Il Bugnara ha punteggio pieno dopo le prime due giornate, ospiterà il Roseto 1920, mentre la Moronese sarà alla ricerca di un risultato positivo nella difficile trasferta a Giuliano Tiatino. La squadra di Di Sante sarà priva degli squalificati Pezzi Esposito e Giallorenzo.